Dopo la morte di Juice Ward Che appunto ha avuto una crisi epilettica in aeroporto Tutti quanti i rapper sono un po' espressi su questa cosa Ognuno con la sua opinione Ma Bello Figo si è un po' distinto da tutti quanti In negativo ovviamente Andando a ironizzare sulla morte di questo personaggio Che tralasciando i gusti musicali non è una cosa bella da fare Per chi infatti ha realizzato una storia in cui lo prende in giro possiamo dire Inventando cose che ovviamente non sono mai esistite E che non sono assolutamente appropriate A un contesto dove è morta una persona Cioè finché si scherzi sulle puttanate ok Però su queste robe magari evitiamo Non aggiungo altro ma vi lascio le sue ultime stories Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video In linea allo studio Eh ragazzi vi dicevo la mia terra coscia di pollese Devo dire che è molto generosa Devo dire io sto assaggiando Non so se volete Volete assaggiare Non so fatemi sapere facciamo tutti una cosa insieme Andiamo a sguardare Eh ragazzi E' morto giù su ordo Il mio caro amico americano Mi ricordo quando andavo in America Andavo in giro con lui A sguainare l'uccello bello duro Ora è morto E' morto giù su ordo E' morto giù su ordo